Torna una donna, punti a capo per l'appuntamento numero 311, andiamo subito a scoprire di chi si tratta nell'angolo riservato alla nostra trasmissione. Benvenuti, oggi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare Francesca Privitera, benvenuta Francesca a punti a capo per la prima volta, se hai visto la nostra trasmissione la mano non la diamo più perché questo maledetto covid ci fa fare però un gesto bellissimo, quello di mettere la mano sul cuore. Grazie di essere venuta a punti a capo col mal tempo e la strada da Catania a Siracusa, anche Francesca è di Catania e presentiamo subito i nostri telespettatori di chi stiamo parlando. Ecco, ho proprio qui una brochure, un libretto che mi sono portato appresso dall'ultimo convegno, anzi dal convegno più importante che ha fatto il movimento di cui parleremo, il movimento politico che si chiama Equità Territoriale e che ha tenuto recentemente un convegno, un congresso nazionale eleggendo il suo segretario. Il segretario è Nicola Peticini che è un euro parlamentare che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare, ma la signora che ho qui accanto, Francesco Privitera, in precinto di diventare la vicepresidente non solo dell'Assemblea ma anche di tutto il movimento, ma soprattutto è la responsabile per la Sicilia di Equità Territoriale. Benvenuta, che bello averti qua, ti ho corteggiato parecchio, alla fine ti ho convinta, abbiamo anche un pubblico di uomini qui alle spalle, ovviamente fanno parte del movimento. Spieghiamo subito ai nostri telespettatori cos'è Equità Territoriale. Allora, Equità Territoriale nasce tre anni fa da una amara constatazione che però si sta diffondendo sempre di più nel meridione e cioè che il sud non ha una sua voce. C'è tutto un popolo meridionale che è privo di rappresentanza politica. Anche se noi sentiamo nelle campagne elettorali invocare ogni tanto, ogni tanto, se ne guardano bene più di tanto, le esigenze delle regioni meridionali, di fatto, nella sostanza poi, a livello decisionale a Roma e a Milano, le decisioni che vengono prese spesso mettono a margine il sud, le esigenze del sud e assolutamente invece prendono in considerazione e si comportano di conseguenza con quelle che sono le regioni del nord. Da questa constatazione nasce tre anni fa su iniziativa di Pino Aprile, che penso a tutti, soprattutto per alcuni libri importanti. La cui meritevole iniziativa è proprio questa, cioè quella di mettere insieme tante anime da tante regioni del sud e non solo, anche persone che si trovano nelle regioni del nord Italia, che sentono fortemente questo bisogno di rappresentanza. Anche perché di fatto lo vediamo economicamente, lo vediamo anche sulla nostra stessa pelle, sulla pelle delle nostre famiglie, quello che è la differenza notevolissima che molti di voi, anzi tutti, sappiamo benissimo che esiste, fra queste due parti del paese, che fa sì che sostanzialmente in Italia sia il paese dove è maggiore la disparità territoriale, in assoluto, più evidente, che coinvolge un maggior numero di popolazione. Cioè non si tratta di un caso isolato, di un paesino che si trova in determinate condizioni, no, qua stiamo parlando di più di un terzo, il 34% della popolazione, quindi 20 milioni di abitanti, di un paese di 60 milioni di abitanti, quindi un terzo, sono tantissimi, che vivono e una parte del paese ignorato. Per questa ragione nasce il Movimento Equità Territoriale. In questi tre anni si è formato, ci siamo messi insieme da varie regioni d'Italia e nello scorso congresso di dicembre a Napoli è stato eletto come segretario nazionale, sia a Napoli, come no, certo. Non possiamo dire la capitale del sud, che è talmente bella. Sì, in qualche modo capitale del sud, però da dire, insomma, le capitali del sud sono tante, non accentriamo troppo. Catania è sicuramente una. No, per carità, io penso alla Sicilia. Non vi scoccia quando dicono Catania la Milano del sud? Catania è Catania, perché Milano del sud è Catania. Sì, è una cosa un po' fastidiosa. Sempre me ha detto anche questo, il paragone col nord è la Milano del sud, no, non è Catania. Come se per riconoscere un merito del sud bisogna necessariamente accostarlo a qualcosa del nord, da solo non può andare. È accolto quello che vuol dire. E no, non va bene. Il nome non è accolto a caso, equità territoriale, cioè l'Italia tutta uguale. Stessi diritti. Stessi diritti, stessi doveri. Voglio andare un po' io, forse voglio essere impopolare nei confronti dei nostri degli spettatori siciliani. Sono d'accordissimo su questo, infatti sono uno di quelli che fortissimamente ha voluto rimanere qui in Sicilia, a lavorare, a fare il giornalista in Sicilia, cosa difficilissima, te lo assicuro. Immagino, immagino. La nostra categoria. Mentre i colleghi del nord sguazzano, a parità di lavoro c'è un guadagno improponibile, super dispari, una cosa improponibile, ma ti chiedo, a volte non ci piangiamo addosso, non siamo anche noi colpevoli di questa disparità. Allora, senza dubbio non siamo immuni da colpe, noi meridionali, in assoluto. La prima colpa è quella di non informarci e di non stare in qualche modo col fiato sul collo dei nostri politici. Sostanzialmente qual è stata la colpa? Quella di eleggere i nostri rappresentanti nel corso degli anni, da qualsiasi parte, destra, sinistra, 5 stelle e così via. E poi disinteressarsi delle loro azioni quotidiane e della loro volontà di rivendicare gli interessi del sud. Come se ci fermiamo al nostro dovere, si ferma al momento in cui mettiamo una croce su un simbolo elettorale e la cosa finisce lì. No. Si sta col fiato sul collo. In che senso? Si sta a controllare, a informarsi quello che fanno e quello che non fanno. Perché se l'avessimo fatto, noi meridionali, ci siamo accorti che nel corso di questi, soprattutto ultimi 30 anni, i nostri rappresentanti non ci hanno minimamente rappresentato. Perché diversamente non ci troveremo nella situazione in cui ci troviamo adesso, in cui le regioni del sud sono fra le più povere d'Italia e in particolare la Sicilia è fra gli ultimi posti, se non il penultimo, se non ricordo male, posto fra le regioni d'Europa più povere. Nell'ingresso nazionale a cui abbiamo fatto riferimento c'era un sottotitolo, mozione sud. Che significa? Anche sud come acronimo, di tre parole ben precise. Esattamente. Qual è la necessità? La necessità è quella di promuovere lo sviluppo del sud, esse come sviluppo assolutamente. Sviluppo basato su condizioni che devono essere condizioni di partenza uguali a quelle del nord, che noi non abbiamo, assolutamente. Lo vediamo tutti i giorni, in qualche modo. Basta fare dei confronti anche semplicissimi, basati sulle infrastrutture, sui trasporti, sul sistema dei trasporti, sulla sanità, per carità. L'istruzione, la formazione. Anche l'università, devo dire anche l'università. Perché lo sentiamo sulla nostra pelle? Perché ormai, e questo è anche quello che spinge e che ha spinto me e anche altre persone a muoversi, stiamo vedendo i nostri figli che vanno via. Io fortunatamente non parlo del mio caso perché mia figlia è rimasta qua e una che vuole rimanere qua, ma io che insegno a scuola, vedo alunni miei, validissimi, che dopo disperati tentativi di trovare lavoro qua dalle nostre parti, se ne vanno. Abbandonano la Sicilia e abbandonano anche con un certo rancore, con la volontà qualcuno neanche di tornare più. Noi stiamo vedendo i nostri figli che vanno via, tutti. O vanno via per ragioni lavorative, o talvolta anche solo per ragioni di studio, che però poi inevitabilmente li porterà ad andare fuori, a rimanere fuori. Andare fuori per ragioni di studio vuol dire anche finanziare questi studi fuori, finanziare con case in affitto carissime, soprattutto in alcune città come Milano, finanziare alcune università, le quali a loro volta ricevono ancora più finanziamenti rispetto alle università del sud, proprio sulla base del numero degli iscritti e sulla base di alcuni criteri che sono stati studiati a tavolino per favorire il finanziamento delle università del nord, come ad esempio un criterio, uno di questi è quello che vengono finanziate le università i cui laureati trovano lavoro entro un anno, nel primo anno dalla laurea. Ebbene, è chiaro che sono favorite le università del nord, quindi le attività di ricerche in questo modo sono maggiormente finanziate proprio in quelle facoltà. Anche con i master fatti ad hoc sempre dalle grandi università. Mi è piaciuto quando hai detto a Roma e a Milano, perché a Milano? A Roma perché? Vabbè c'è il governo nazionale a Milano, cioè Milano muove tutto, muove forse l'economia più di Roma, ma le teste sono da Roma. Le colpe di questa situazione, e mi aggancio anche a quello che dicevamo prima, ovviamente sono nostre, ma non sono solo nostre. Noi abbiamo avuto negli ultimi decenni, anche prima, una pessima classe dirigente. Questa classe dirigente viene senza dubbio dai vertici politici che sono a Roma, ma anche dalle forze economiche del nostro paese, che ovviamente, come ben sappiamo, sono maggiormente forti al nord, in particolare in Lombardia, in particolare a Milano. Spesso si ha la sensazione che da lì partono determinate direttive, non tanto da Roma quanto da Milano. Difatti noi spesso parliamo di punno, cioè di partito unico del nord, cioè come se tutti i partiti politici fossero allineati, si allineassero alle esigenze del nord e di queste spinte settentrionali. Che sia chiaro, non è una sorta di rivendicazione nei confronti del popolo settentrionale che non c'entra nulla, ma di un certo gruppo ristretto che purtroppo comanda nel nostro paese, che privilegia in modo anche piuttosto ottuso, ottuso perché poi alla lunga si avrà riflessi anche sull'economia e già li ha riflessi sull'economia del nord, che privilegia in assoluto gli investimenti solo in una direzione, solo in una parte del paese. Purtroppo con la complicità dei nostri politici. Noi comunque, cioè il mio modestissimo parere, il giornalista settico deve fare il conduttore e basta. Non penso che il compito di equità territoriale, come gli altri movimenti nati per il sud, sia quello di lamentarsi e accusare il nord, ma di proporre e sviluppare, per questo dicevo, la colpa è anche nostra, è sviluppare il territorio in maniera migliore possibile. Penso che il principio di equità territoriale sia questo. Senza dubbio è questo, ma lo sviluppo parte da determinate condizioni, condizioni di partenza che sono assolutamente diverse nel paese. Nella sostanza noi non abbiamo, in questo mi aggancio anche il discorso dell'autonomia differenziale. Stavo per chiedertelo, c'è un certo signor Calderoli, non so se lo conosci, che ha presentato un bellissimo DDL, proprio per stroncare il sud, ma pare che il centrodestra non sia del tutto d'accordo. Ha messo un po' a mollo, perché dal punto di vista elettorale in questo momento, con le elezioni regionali tra Lombardia e Lazio, c'è anche la questione Lazio, e pare che il candidato del Lazio non sia tanto favorevole, il candidato di Fratelli d'Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia, è momentaneamente a mollo. Però il disegno va avanti da qualche tempo, ultimamente il disegno sull'autonomia differenziata sembra aver ricevuto una sorta di accelerazione. Brevemente, di cosa si tratta? Perché vedo che spesso molte persone non lo sanno. Cos'è l'autonomia differenziata? È la richiesta da parte di alcune regioni, guarda caso le regioni più ricche d'Italia, che sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, di ottenere una... Ma sei sicura? Pensavo alla Sicilia, la Puglia e la Calabria. No, assolutamente. A parte la Sicilia è una condizione particolare, perché è una regione a statuto speciale, non pienamente realizzato, perché alcuni articoli relativamente alle finanze non sono pienamente attuati. Ma si tratta di queste regioni che chiedono allo Stato, in qualche modo di gestire loro la spesa che hanno finora ricevuto da Roma e, nella sostanza, in poche parole, di cosa si tratta? È come se noi avessimo un genitore che ha due figli, il nord del sud. Un figlio, sostanzialmente, ha investito per mandarlo a scuola, per mandarlo successivamente all'università. L'altro figlio, invece, gli ha dato a stento da mangiare e poi non se ne è occupato più. Cioè, ha trattato il figlio in modo diverso, i figli in modo diverso. Uno per uno ha creato le condizioni affinché poi questo figlio potesse percorrere la sua strada, svilupparsi, evolversi, eccetera. Per l'altro no, si è limitato solo a farlo sopravvive, con fatica sopravvive. Quindi, se questo padre a 100 ha speso 80 per un figlio, creando le condizioni per il suo sviluppo e 20 per l'altro figlio. Ne rimangono 20. Allora, è un'associazione che possiamo fare anche per nord e sud. Senonché Calderoli ed altri che hanno voluto definire questo 80 che è stato speso e questo 20 che è stato speso in passato come spesa storica, gli hanno dato questo aggettivo come quasi quasi a porlo su un piano diverso, più nobile. Ma non è per niente nobile, non è affatto nobile, perché si tratta di una spesa che è assolutamente stata distorta e che non ha tenuto in considerazione quella che ha la popolazione meridionale, che ripeto è del 34% rispetto alla popolazione nazionale, che ha ricevuto ogni anno una spesa pubblica che ha oscillato tra il 20, il 21 e il 22%. Quindi ha ricevuto molto di meno rispetto a quanto dovuto. Chi ha ricevuto di più è il nord. Eppure il ministro Calderoli ha detto che l'autonomia differenziata è la migliore formula per dare la spesa pubblica e distribuire i finanziamenti sul territorio nazionale equamente. Non è affatto così, perché? Perché già nella situazione di partenza, allora, l'autonomia in teoria potrebbe andare bene se ci trovassimo tutti nelle stesse condizioni di partenza. Non siamo affatto nelle stesse condizioni, proprio perché nel corso degli anni siamo arrivati a questo punto con un nord molto sviluppato, con delle infrastrutture, con dei servizi scolastici, servizi sanitari, eccetera, eccetera, molto più sviluppati rispetto al sud. Ebbene, questo riequilibrio potrebbe avvenire attraverso i famosi letto, che poi utilizzano questa terminologia che sembra fatta apposta perché la gente non capisca niente, cioè livelli essenziali di prestazione. In che senso livelli essenziali di prestazione se mette sullo stesso piano questi servizi pubblici in tutto il Paese? Ora, ritornando all'esempio di prima, se si dovesse stabilire questi LEP, ritornando al papà che ha due figli trattati in modo diseguale, cosa dovrebbe fare il papà? Cercare di farla sviluppare anche il figlio fino a quel momento trascurato, finanziando magari la sua attività universitaria, finanziando se lui vuole intraprendere un percorso lavorativo e così via. Ma per finanziarla avendo sempre 100 dovrebbe aumentare quella quota di 20 e per aumentare quella quota di 20 dovrebbe togliere qualcosa al figlio a cui ha dato 80. Questa è la ragione per cui i LEP non vengono mai definiti e tantomeno finanziati, perché questo vorrebbe dire che per riequilibrare la situazione bisognerebbe togliere quel tanto in più, e c'è, che è stato dato al figlio privilegiato del Nord. E questa è una questione che viene rimandata da tantissimi anni. Ti posso chiedere una cosa, ma credo che sia chiaro a tutti. Il padre, il genitore di questo figlio del Nord e questo figlio del Sud è lo Stato? Certo. È lo Stato, esattamente lo Stato. Lo Stato che è questa entità che a noi sembra astratta, ma che nella sostanza poi è formata da coloro che abbiamo eletto tutti, Nord e Sud, e che sono lì a Roma a rappresentarci e a prendere determinate decisioni. Ma adesso noi siciliani abbiamo un Presidente che è stato Ministro dello Stato. Che fa Schifani secondo te? Allora, è stato... Era meglio che non te lo chiedevo. Appunto, è stato Presidente del Senato e non mi risulta, anzi, secondo me è stato proprio un complice di questa situazione. Ha fatto parte il governo Berlusconi, è un berlusconiano e Berlusconi che è sempre stato alleato della Lega, che guarda caso, proprio da quando c'è la Lega, non che prima lo Stato abbia avuto una grandissima attenzione per il Sud, però possiamo dire che magari negli anni 50-60 con la cassa del mezzogiorno quantomeno qualcosina è stata fatta. Infatti quelle poche infrastrutture che abbiamo risalgono a quell'epoca, dopo è stato fatto ben poco. Però guarda caso, da quando c'è la Lega, sullo scenario, apparsa la Lega sullo scenario politico italiano, all'improvviso, o quasi all'improvviso, comunque sicuramente nel corso degli ultimi 30 anni, di Sud si è parlato sempre meno. E purtroppo, devo dire, anche quelle volte in cui se ne parla, talvolta se ne parla in termini denigratori, proprio denigratori. Prima di mandare in onda i contatti della trasmissione, Francesca, un'ultima cosa ti volevo chiedere. Ormai siamo molto vicini a delle elezioni amministrative importanti. Io credo che si parta sempre dalle elezioni amministrative. Forse sono le più importanti di tutte dare un governo, un'amministrazione del proprio territorio. Su Siracusa, Catania, Aracusa, andranno alle elezioni. Cosa ti aspetti? Soprattutto su Catania, visto che tu sei di Catania. Allora, il movimento si sta guardando intorno, perché la situazione è estremamente delicata. Stiamo partendo da una situazione di grave sviluppo, in un contesto con un'inflazione altissima, con una situazione veramente drammatica. Vedo anche che intorno anche i partiti più consolidati non si stanno sbilanciando più di tanto. In che senso? Ancora le candidature a pochi mesi dalle elezioni non sono ben chiare, come se ognuno aspettasse il passo dell'altro. Dobbiamo fare molta attenzione, soprattutto perché i prossimi nostri amministratori saranno coloro che in qualche modo si occuperanno di gestire anche i fondi del PNR. Quei fondi, vi ricordo comunque, che misura minore rispetto a quello che era stato previsto dall'Unione Europea, andranno al Sud. La gestione di questi fondi è particolarmente delicata, si tratta di diversi milioni di euro e bisogna prestare molta attenzione. Devono essere amministratori capaci, onesti. Noi stiamo vedendo se possiamo formare delle liste a sostegno di chi e proprio per questa ragione stiamo andando con i piedi di piombo. Onesti e soprattutto persone che finalmente rappresentino le nostre ragioni. Vi faccio un esempio, nel caso di Catania. Un anno e mezzo fa la Intel, una multinazionale californiana, ha deciso di investire, ha manifestato quantomeno l'idea di investire, di fare un investimento su Catania. Un investimento considerevole che avrebbe comportato solo all'inizio l'assunzione di mille persone, più tutto quello che ne comporta di indotto. Ebbene, un anno e mezzo fa chi avevamo come Ministro dello Sviluppo Economico? Giorgetti, noto esponente leghista. Giorgetti fece di tutto, si mosse e guarda caso, guarda caso, la Intel ha cancellato l'idea di investire a Catania e si è in qualche modo interessata a investire tra il Piemonte e il Veneto. Credo che adesso sia orientato addirittura a investire in Veneto. Sul Piemonte addirittura si pronunciò direttamente Giorgetti dicendo che lo stabilimento di Mirafioi si prestava bene alle esigenze della Intel. Ebbene, un Ministro della Repubblica dovrebbe avere tutto l'interesse, anzi dovrebbe gioia che c'è una multinazionale che vuole investire in un territorio con una fortissima disoccupazione. No, invece pensa bene di dirottare questo investimento nel ricco nord. Ebbene, i nostri rappresentanti politici, a questo mi collego pensando al mio sindaco di Catania, avrebbe dovuto fare i salti mortali, avrebbe dovuto fare di tutto, manifestare, legarsi da qualche parte per far sì che questo investimento rimanesse ancorato a Catania. Non abbiamo avuto notizia di nulla. Fra l'altro la sua stessa parte politica, sempre la destra, non ha mosso dito, non ha contestato nulla. Cioè è rimasto assolutamente in erbe, ha subito questa situazione e non ha in questo modo rappresentato a dovere gli interessi della sua città. Lui ha ricevuto la fiducia dei suoi cittadini e l'ha tradita questa fiducia. E questo è uno dei tanti esempi. Forse però è quello più clamoroso che ci dovrebbe far arrabbiare ancora di più. Un esempio calzante che spiega tutto il discorso che abbiamo fatto oggi. Ci fermiamo, linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione che vedete in sovrimpressione con il numero telefonico della redazione, l'indirizzo email, la posta elettronica personale a quali vi potete rivolgere per ulteriori informazioni e domande alla nostra ospite, a Francesca Priviterra, al movimento politico che lei rappresenta, Equità Territoriale. Abbiamo concluso, è stata una bellissima conversazione. Grazie dell'ospite. Io ti auguro di lavorare bene per il movimento e per la Sicilia. Devo dire che il movimento ha scelto bene chi deve essere il suo leader in Sicilia, perché insomma per quanto ormai ti conosca abbastanza bene sei una donna, come si dice in Sicilia, cazzuta, che ci vuole e come. Grazie di essere venuta in trasmissione. Grazie a Francesca Priviterra del movimento politico Equità Territoriale e grazie a voi telespettatori che ci avete seguito, al quale il tuo appuntamento, a sabato prossimo per un altro incontro con Punti a Capo. Arrivederci e a risentirci. Grazie a tutti.